quando mi dissero sai chac parent è morto pazzo in una casa di salute un brivido doloroso un brivido di paura ed angoscia mi percorse le ossa e rivedi d'un tratto quello maccione strambo folle forse da lungo tempo maniaco inquietante e talora spaventevole chiaro sulla quarantina alto magro un po' curvo con occhi da allucinato occhi neri così neri che non si distingueva la pupilla occhi mobili svagati malati spiritati che essere singolare turbata diffondeva un malessere intorno a sé uno di quegli incomprensibili malesseri che fanno credere a certe influenze soprannaturali aveva un tic fastidioso la mania di nascondere le mani così mai le lasciava posare come facciamo solitamente sugli oggetti o sulla tavola mai che egli maneggiasse gli oggetti di uso comune con quel gesto usuale che hanno tutti gli uomini mai che le lasciasse nude le sue lunghe mani ossute fini un poco febbrili se le infilava nelle tasche e le nascondeva sotto le ascelle incrociando le braccia e sarebbe detto che avesse paura che se compissero alcunché di proibito o qualche cosa di ridicolo se le avesse lasciate libera e padrone dei loro movimenti quando era costretto a servirsene per tutti gli usi comuni della vita lo faceva con scatti bruschi con moti rapidi del braccio come se non avesse voluto lasciare loro il tempo di agire da sole di rifiutarsi alla sua volontà di eseguire qualche altra cosa quando era a tavola afferrava il bicchiere la forchetta o il coltello così vivamente che non si aveva mai il tempo di prevedere quel che stesse per fare ma una sera ebbi la spiegazione della sorprendente malattia che lo affliggeva veniva di tanto in tanto a trascorrere qualche giorno con me in campagna quella sera mi pareva particolarmente agitato un temporale andava addensandosi nel cielo dopo una giornata di caldo atroce nessun soffio di aria faceva muovere le foglie un pesante calore di fornace passava sui nostri visi faceva ansare i nostri petti sentendomi a disagio inquieto feci per andare a letto quando mi vide in procinto di ritirarmi egli mi afferrò un brazzo con un gesto disperato dicendo no rimani ancora un poco lo guardai con sorpresa mormorando questo temporale mi scuote i nervi gemette o piuttosto gridò e a me allora rimani ti prego non vorrei rimanere solo aveva un'aria stralunata gli domandai che hai perdi la testa sì qualche volta in certe sere come questa nell'essere di elettricità ho 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 paura ho paura di me non capisci sono dotato di un potere no di una potenza no di una forza insomma non so dirti che sia ma ho in me una forza magnetica così straordinaria che ho paura sì paura di me come ti dicevo prima e nascondeva con brividi di smarrimento le mani vibranti sotto la fodera della giacca io stesso mi sentii repentinamente tremare di un timore confuso possente orribile avevo voglia di andarmene di fuggire di non vederlo più di non vedere più quel suo occhio smarrito vagare su di me deviare rivolgersi al soffitto cercare qualche angolo scuro della stanza per fissarvisi come avesse voluto nascondere anche il suo sguardo terribile valbettai non mi avevi mai detto queste cose riprese ne parlo forse con qualcuno questa sera non posso tacere e preferisco che tu sappia tutto potresti forse aiutarmi il magnetismo sai tu che cosa sia no nessuno lo sa e pertanto lo si constata lo si riconosce i medici stessi se ne servono uno dei più lustri il dottor Charcot lo pratica dunque nessun dubbio che esso esista un uomo una creatura ha il potere spaventevole e incomprensibile di addormentare con la forza della sua volontà un'altra creatura e mentre dorme come si ruberebbe un portafogli e ruba il pensiero cioè l'anima il santuario il segreto del nostro io l'anima quel fondo dell'uomo che si crede impenetrabile l'anima l'asilo di idee inconfessabili di tutto ciò che si nasconde di tutto ciò che si ama di tutto ciò che si vuol cedere a tutti gli umani la apre la viola la mostra la getta impasto al pubblico non è atroce criminoso infame tutto ciò perché come accade questo lo si sa forse che si sa tutto è mistero non comunichiamo con le cose se non mediante i nostri miserevoli sensi incompiuti infermi così deboli che essi hanno appena la potenza di constatare quel che ci circonda tutto è mistero pensa alla musica a quest'arte divina che sconvolge l'anima la trasporta la inebria la smemora che cos'è la musica nulla non mi capisci ascoltami i tuoi corpi si urtano l'aria ne vibra le vibrazioni sono più o meno numerose più o meno rapide più o meno forti secondo la natura dell'urto ora abbiamo nell'orecchio una pellicola che riceve queste vibrazioni dell'aria e le trasmette al cervello in forma di suono immagina un bicchiere d'acqua si tramuti in vino nella tua bocca il timpano compie questa incredibile metamorfosi il sorprendente miracolo di cambiare il movimento in suono così la musica l'arte complessa e misteriosa precisa come l'algebra e vaga come il sogno quell'arte fatta di matematica e di ispirazione non deriva dunque che dalla strana proprietà di una pellicola non esisterebbe affatto senza di essa come non esisterebbe neanche il suono senza l'orecchio si intenderebbe la musica? no ebbene noi siamo circondati di cose che non sospetteremo mai perché ci mancano gli organi che se le ribellino il magnetismo è forse una di queste non possiamo se non presentire questa potenza se non tentare tremando la vicinanza degli spiriti non possiamo che intravedere questo nuovo segreto della natura perché non abbiamo in noi lo strumento rivelatore e io e io sono notato di una potenza spaventevole si direbbe che un altro essere chiuso in me voglio senza posa sfuggire agire il mio malgrado è lui che si agita che mi divora che mi esaurisce chi è? non so ma siamo in due nel mio povero corpo ed è lui l'altro che è spesso più forte come questa sera non ho che da guardare gli uomini per stordirli come avessi loro propinato oppio non ho che da stendere le mani per produrre cose cose terribili se tu sapessi il mio potere non si estende soltanto sugli uomini ma anche sugli animali e anche sugli oggetti la mia angoscia mi spaventa ho avuto spesso la tentazione di accecarmi di recidermi i polsi ma voglio voglio che ti sappia tutto guarda ti mostrerò questa mia potenza non su di una creatura umana come fanno tanti ma su di una bestia chiama Mirza camminava a grandi passi come allucinato mi si è repentinamente in mostra le sue mani che aveva tenuto sino ad allora nascoste sul petto mi parvero spaventose come se avesse messo a nudo due lame io vedi macchinalmente soggiogato vibrante di terrore assalito da una specie di desiderio imperioso di vedere aprii la porta e fischiai alla mia cagna che dormiva nel vestibolo intesi subito il rumore precipitoso delle sue zampe sulla scala ed essa apparve festosa scodinzolante e feci segno di salire su di una poltrona mi saltò ad un balzo Jacques prese ad accarezzarla guardandola intensamente mi parve da prima inquieta fremeva svolgendo il capo per evitare l'occhio fisso dell'uomo sembrava agitata da un crescente timore cominciò d'improvviso a tremare a quel modo che tremano i cani tutto il suo corpo palpitava scosso da lunghi fremiti tentò ad un certo punto di fuggire ma lui le posò una mano sul cranio sotto quel contatto essa diede uno di quei lunghi latrati che si sentono talvolta di notte nella campagna mi sentivo anch'io oppresso stordito vedevo i mobili piegarsi traballare i muri balbettai basta Jacques basta ma egli non mi ascoltava più fissava Mirza in un modo pauroso continuamente la bestia ora chiudeva gli occhi lasciando cadere la testa come si fa quando ci si addormenta lui si volse verso di me dicendo è fatto sta a vedere ora gettò il suo fazzoletto dall'altro lato della stanza gridando riportalo la cagna si alzò e vacillando traballando come fosse stata cieca muovendo le zampe come i paralitici muovono le gambe si diresse verso il fazzoletto che formava una macchia biancastra contro il muro tentò varie volte di ghermirlo coi denti ma vi mordeva a costo come non l'avesse visto lo addentò al fine e ritornò con la stessa andatura oscillante di sonnambulo è una cosa orribile a vedersi lui ordinò accucciati lì essa si accucciò allora toccandole la fronte disse una lepre prendila prendila la bestia distesa sul fianco tentò di correre si agitò come fanno i cani quando sognano diede senza aprire la bocca piccoli abbaiamenti gemebondi Jacques pareva impazzito il sudore gli colava dalla fronte gridò mordilo mordi il tuo padrone la cagna ebbe due o tre sobbalzi terribili e sarebbe detto che stesse resistendo che lottasse lui ripetè mordilo alzandosi la cagna venne allora verso di me mentre io indietreggiavo verso la parete fremendo di spavento con il piede sollevato per colpirla per respingerla ma Jacques ordinò qui subito essa si volse allora verso di lui con le sue grandi mani egli le strofinò il capo per liberarla da invisibili legami Mirza riapri gli occhi e Jacques disse è finito non osai toccare la cagna aprì l'uscio perché uscisse uscì infatti lentamente tremolante e sfinita e udì di nuovo le sue unghie strisciare sugli scalini Jacques ritornò verso di me non è tutto ciò che mi spaventa di più è questo vedi che gli oggetti mi obbediscono era sul tavolo una specie di pugnaletto di cui mi servivo come tagliacarte lui allungò una mano la lama pareva serpeggiare avvicinandosi d'improvviso vidi sì vidi la lama staccarsi muoversi scivolare da sola sulla superficie della tavola verso la mano che l'aspettava e che venne a porsi sotto di lei gridai per il terrore credetti di impazzire anch'io ma il suono acuto della mia voce mi calmò improvvisamente Jacques riprese tutti gli oggetti vengono in questo modo verso di me per questo nascondo sempre le mie mani che è ciò magnetismo elettricità calamita non so ma è orribile e comprendi perché è orribile perché quando sono solo non appena rimango solo non posso impedirmi di attirare tutto ciò che mi circonda e trascorro così intere giornate a cambiare posto alle cose non tralasciando mai di provare il mio potere abominevole come per vedere se non mi ha abbandonato aveva sprofondato le sue grandi mani nelle tasche e guardava nella notte un piccolo rumore un fremito lieve sembrava passare tra gli alberi era la pioggia che cominciava a cadere mormorai è spaventevole lui ripetè è orribile un rumore più forte percorse il fogliame come un soffio di vento era l'acquazzone la pioggia dirotta a torrenziale Chuck si mise a respirare a pieni polmoni sollevando il petto quindi disse lasciami la pioggia mi calmerà desidero rimanere solo ora grazie